I suoi record nei 50 e 100 stile libero sono imbattuti da dieci anni. Cesar Cielo, classe 1987, tre medaglie olimpiche, sei medaglie d'oro e mondiali di nuoto, dopo aver vinto tutto, ha deciso di condividere la sua esperienza per insegnare la tecnica ai più piccoli. Io vengo da una città molto piccola del Brasile, quindi trovo molte somiglianze con il Mugello. Credo da qui possa nascere un futuro campione mondiale. In gergo tecnico si chiama Clinique, è uno stagio intensivo, quello che il campione brasiliano ha portato al centro piscine di Borgo San Lorenzo, dove si allenano i campioni del futuro della Mugello Nuoto. La priorità dei miei stagio è condividere esperienze e consigli e stare vicino ai bambini. Non conosco bene i settori di base della vostra nazionale o gli allenatori nuovi, ma considero il nuoto italiano fra i migliori. Ha sempre sfornato fortissimi atleti. Dopo gli allenamenti spazio per una foto di gruppo, tutti in acqua, spalla a spalla col campione.